la mia ispirazione viene sicuramente dalla mia dalla mia terra la campania se chiudo gli occhi vedo il vesuvio vedo napoli vedo il sole la terra i limoni sono cose che sono rimaste dentro di me che è difficile che qualcuno mi può togliere elementi dello scatto di oggi rappresenta un po la mia vita perché il pesce per me rappresenta l'ottanta per cento della mia professione la mia cucina mare vuole vita pesce uguale cucinare ho scelto di fare il calentare la pazza perché ormai con la pazza c'è un feeling bellissimo ed è sicuro che uscirà una cosa bellissima la pazza è una grande famiglia una famiglia che non si accontenta mai guarda sempre in avanti e quello che faccio in casa mia cerco sempre di guardare in avanti migliorare fermarsi ascoltare ascolta e poi riparte per questa è una cosa bellissima sono dieci anni che la mattina mi sveglio con la pazza la mattina mi sveglio con la pazza è una cosa bellissima